pronti vediamo eccolo qua arrivo ma ci siamo tutti allora stai zitto per due minuti se ci riesci grazie fabio silenzio ciac si gira pronti allora ragazzi paint revolution prima di tutto mettetevi tranquilli non succede niente non c'è la guerra è una rivoluzione perché non sappiamo cosa succederà perché voi date libero sfogo alla vostra creatività per questo è una rivoluzione perché noi non sappiamo dove andiamo a finire ma sicuramente ci sarà molta bellezza e molta estetica buon lavoro ragazzi si parte attenzione Grazie a tutti. Bravi tutti e 4, il vincitore è Frittoli, che ha fatto questa opera qua. Grazie a tutti.